Io non avevo i soldi per pagare l'avvocato. Io non aspettavo una formula ampia di assoluzione. Ciao, sono Francesco Giano. 13 anni per Mimmo Lucano. Per capire la sentenza ed eventualmente criticarla, dobbiamo partire dalla storia dell'ex sindaco di Riace, che tra l'altro non è stato letto in Calabria. Una storia che parte dal mare. È il 1998, sono le 4 del mattino. Una nave con 300 curdi arriva a Riace. Domenico Lucano, ex professore di chimica, va alla spiaggia e inizia a aiutarli. Trova loro un cibo, una casa tra quelle abbandonate nel paese. E da quella mattina, per tutti diventa Mimmo il curdo. È il sogno degli ultimi. Io anche sono ultimo. Ha detto bene Salvini, sono uno di zero. Mimmo vede in quegli sbarchi un'opportunità per ripopolare un paese. Nasce il modello Riace. Un paese senza persone, ripopolato da persone senza un paese. I migranti vengono ospitate nelle case abbandonate. In cambio, imparano un mestiere e ricevono un piccolo stipendio. Nel paese aprono bar, pasticcerie, laboratori di ceramica. L'economia gira, i migranti si integrano, Riace si ripopola. Ma presto arrivano anche le critiche politiche e le inchieste giudiziarie. E ora, dopo quattro anni, Mimmo Lucano è stato condannato dal tribunale di Locri a 13 anni e due mesi, per associazione a delinquere, truffa, falso, peculato e abuso d'ufficio. Sono il doppio degli anni che ha chiesto l'accusa. Ora, come si dice in questi casi, bisogna aspettare le motivazioni della sentenza. Urlare contro i giudici politicizzati che hanno condannato Lucano, senza conoscere i fatti, ha la stessa profondità che dire che Lucano si è arricchito con i migranti. Cioè zero. Mettiamo in fila i fatti. Primo, Mimmo Lucano nel suo conto corrente ha 9 euro. Lo stesso PM e i giudici hanno detto che non si è mai arricchito economicamente. Non ho proprietà, non ho nulla. Secondo, lui stesso ha rifiutato una candidatura, ad esempio, al Parlamento europeo che gli avrebbe garantito un'immunità contro un'eventuale condanna. Terzo, lo stesso PM, ex volontario con i missionari in Mozambico, ha detto di essere umanamente dispiaciuto al momento di chiedere la condanna. Quarto, l'immigrazione non c'entra niente. Mimmo Lucano tra l'altro è stato assolto dall'unico reato che aveva a che fare con il favoreggiamento dell'immigrazione, ovvero aver organizzato un matrimonio tra una ragazza nigeriana e un settantenne di riace in cerca di moglie. Quelli per cui è stato condannato sono 22 reati che hanno a che fare con la gestione dei soldi che arrivavano dallo Stato o dall'Unione Europea. Una gestione che lui stesso ha definito un po' pasticciata. Partiamo dall'associazione delinquere. Secondo la sentenza, Lucano si sarebbe associato appunto con delle cooperative attive nella gestione dei migranti e avrebbe fatto arrivare a loro 2,3 milioni di euro ingiustificati. Con delle rendicontazioni degli immigrati in debite, con dei beni alimentari indicati come destinati agli immigrati ma poi utilizzati per fini privati, con costi fittizi per il carburante, con false fatturazioni. E visto che quei soldi arrivavano dallo Stato italiano o dall'Unione Europea, anche attraverso ovviamente la firma su atti pubblici, è scattato il reato di truffa e di falso in alto pubblico. Se io ho fatto l'associazione delinquere, allora dovevano comprendere anche il Ministero degli Interni e prefetture. C'è poi il reato di peculato che consiste nell'appropriarsi di soldi pubblici. In questo caso 2,4 milioni di finanziamenti. Tra gli episodi prelievi dai conti delle associazioni per mezzo milione di euro senza giustificazioni o 250 mila euro che erano stati dati dallo Stato e che servivano ai migranti ma che sono stati usati per ristrutturare tre case e un frantoio. Ora il PM aveva chiesto 7 anni attuando un calcolo prudenziale. Come siamo arrivati a 13? Qui c'è una cosa un po' tecnica però importante. Si tratta del medesimo disegno criminoso. Diciamo che devo andare a fare una rapina in una banca. Per fare la rapina rubo una macchina. Guido quella macchina fino alla banca. Quando arrivo spacco la vetrina. Mentre sto fuggendo dopo la rapina picchio un passante. Quindi quando mi prendono faccio resistenza all'arresto e così via. Faccio tantissimi reati nel giro di pochi minuti. Ma si dice che quei reati sono legati al medesimo disegno criminoso. Cioè la rapina. Sono tutti fili di un reato più grande. Quando il giudice mi deve condannare riconosce questa cosa e quindi non somma ritmicamente le pene per i singoli reati. Furto della macchina, rapina, distruzione della vetrina eccetera. Ma prende la pena prevista per il reato più grave. In questo caso la rapina punita tra i 5 e 10 anni e al massimo la raddoppia o la triplica. Nel caso di Mimmo Lucano il PM ha fatto questo ragionamento e si è fermato appunto alla richiesta di 7 anni. Il tribunale a sorpresa invece ha scorporato i reati in due filoni, ha fatto la somma aritmetica delle pene, ha riconosciuto l'associazione delinquere, ha negato a Mimmo Lucano le attenuanti generiche nonostante fosse incensurato ed è arrivato a 13 anni. Non lo so se ai delizi di mafia di queste cose ci sono queste sentenze così. Ora l'ex sindaco chiederà ovviamente poi cesso un appello. Perché sostengono i suoi avvocati? Non c'è rilevanza penale ma al massimo amministrativa? Perché non era cosciente di aver commesso degli illeciti, visto le leggi sulle immigrazioni che cambiano sempre? E perché ci potrebbe essere la causa di forza maggiore? Ovvero ha fatto quegli illeciti per salvare altre vite. Ovviamente dobbiamo aspettare le motivazioni. Da una parte c'è chi parla di sentenza politicizzata e fa suo il detto maligno. Con gli amici le leggi si interpretano, con i nemici si applicano, fino all'ultimo. Dall'altra parte c'è chi fa notare come, al di là delle singole buone intenzioni, Mimmo Lucano era sempre un sindaco, ovvero un pubblico ufficiale, che deve far rispettare le regole. Perché le regole o valgono per tutti o non sono più tali. Di sicuro c'è un concetto che anche questa volta trovo confermo. La moralità di una persona e il rispetto della legge da parte sua non sono necessariamente coincidenti. Si può essere contemporaneamente brave persone ma criminali, così come persone immorali ma perfettamente incensurate. Si può violare la legge convinti di fare del bene e si può rispettarla ossequiosamente continuando a fare del male.